Come attivare così il ray tracing e migliorare la qualità su Fortnite? Ovviamente è possibile migliorare la qualità attraverso il pannello di controllo di Nvidia oppure il programma Nvidia App che ti ho lasciato direttamente in descrizione. Quindi in questo caso vai su il sito qua che ti ho lasciato in descrizione, Nvidia App, scarichi e installati così la versione beta di questo programma dove tu puoi scaricare, installare e aggiornare i driver della tua scheda grafica. Vai su grafica, qui c'è Fortnite, gioco non è ottimizzato, ovviamente mettiamo qualità e ottimizziamo così il gioco. Andiamo fino a ciò fino a trovare ray tracing di LSS qualità, tutto epico quindi la qualità su Fortnite è migliorata, la modalità di rendering pure questa è la parte più importante, il DirectX 12 che si è selezionato quindi la qualità ora è migliorata. Se andiamo un attimo su Fortnite, tra i puntini vai direttamente su opzioni ed eccolo qua. Shader DirectX 12, questo deve essere quindi dobbiamo installarlo su Fortnite, texture ad alta risoluzione dobbiamo installarlo. Invece per scarica le risorse trasmesse ti permette di aumentare gli FPS e migliorare le prestazioni. Quindi se non vuoi Fortnite con una qualità veramente migliorata ti consiglio di scaricare e installare pure questo. Io invece non lo scarico. Un'olta fatto non ci resta che entrare su Fortnite. Ed ecco qua Fortnite, come puoi vedere il mio personaggio, quindi la mia skin Doom è veramente spettacolare, si vede molto bene. Quindi in questo caso si è già attivato tutto automaticamente grazie al programma Nvidia App. Ora vai direttamente su impostazioni qua sopra, qualità grafica ed eccolo qua. Anti-racing sopra risoluzione ho messo in vita DLSS, scendo fino a giù fino a trovare così il supporto retracing hardware ed eccolo qua. Quindi i riflessi Rumen devono essere abilitati, quindi se sale fino a sopra fino a trovare questi riflessi, se riusciamo a trovarli, impostazioni qualità, geometria virtualizzazione, questa dobbiamo attivare, illuminazione globale, riflessi ed eccolo qua, lumen epico qua, lumen epico, riflessi ed eccolo qua, retracing hardware, tu metti sì ed ecco Fortnite con una qualità veramente migliorata. ed ecco a voi Fortnite, una qualità incredibile anche se gli fps sono sui 44, 45, 50 fps perché avendo anche una 30, 60 ti hai. Questo è Fortnite con questa qualità, quindi grazie a tutti per questa versione, il retracing lo puoi attivare così, il DirectX 12 lo devi attivare su Epic Games, quindi devi anche scaricare così le risorse e attivarlo su Fortnite. Quindi grazie a tutti per questa versione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao Ciao